Benvenuti al Board Game Studio, il set televisivo allestito da Luca Games in collaborazione con Gioeconomicon.net dove vi illustreremo le ultime novità dell'edizione 2017 della fiera. Siamo qui con Enrico Emiliani che ci mostrerà Clank, localizzato in Italia da Raven Distribution e ideato da Dyrswolf. È un deck building da due a quattro giocatori. Spieghiamo un po'. Spieghiamo, illustracelo. Ok, diciamo che la prima regola che abbiamo tenuto e un po' cambiato in regolamento è che il primo giocatore che dice primo inizia. Primo? Eh. Ok, inizio io. Va bene. Questa regola qui la facciamo, dopo la spieghiamo adesso. Il primo giocatore mette tre cubetti Clank, che te li spiego dopo cosa sono. Il secondo giocatore mette due cubetti. Ok. Perfetto, nell'area Clank. Ok, il gioco è gestito essenzialmente dal mazzo di ogni giocatore. Qual è il background? I ladri si sfidano per andare a rubare all'interno della tanna del drago l'artefatto di più valore e più tesori che riescono a trovare. Devono riuscire a rubarlo e andarsene fuori perché se no il drago, bene o male, li attacca e cerca di ucciderli. Ok. La gestione del movimento dei personaggini, dei meeple, all'interno del dungeon è gestita dalle carte. Ok. Ci sono... Mescoliamo intanto il mazzo iniziale. Domanda, quando si parte ogni giocatore quante carte ha? Un giocatore ha un mazzo da dieci carte, adesso lo faccio vedere, che ha sei carte svaliggiare, che sono standard per tutti. Poi sono... Allora, scusami, qui no... Ok, esatto. Sei carte svaliggiare, due carte inciampare, una girare e una scattare. Ok. Sono uguali per tutti i giocatori. Benissimo. Quindi i giocatori mescolano il mazzo e pescono cinque carte. Si è obbligati a giocarle sempre le carte. Ok. Si pescono cinque carte, le tengo scoperte adesso essenzialmente. Ok. Sono obbligato a giocare le carte. Allora, la valuta del gioco essenzialmente sono i punti abilità, la risorsa abilità che ti danno le carte. Quindi cosa vuol dire? Essenzialmente tutte quelle che sono risorse abilità blu sono soldi che mi permettono di acquisire, non acquistare perché in teoria in un gioco di ruolo acquisisci le abilità, non le acquisti, le carte della fila del dungeon. Ok. Che sono queste qua. La fila del dungeon viene fuori dal mazzo dungeon e prevede carte oggetto, ok, alleati, questi qua, compagni in questo caso, abilità del personaggio, consegni. Che sono carte che non vanno nel tuo mazzo ma hanno un utilizzo singolo e basta e mostri, che sono i nemici che si trovano all'interno del dungeon. Ok. Io pesco le mie carte. Cosa posso vedere? Che ho cinque abilità che mi permettono di acquisire le carte che sono qua, il costo di ogni carta è nell'angolo in basso a destra. Quindi questa è l'angolo con tre, questa è l'angolo con due, posso acquisirne fino a quando ho punti abilità. Posso acquisire anche delle carte che sono standard ogni partita e ce ne sono in più copie perché sono carte che bene o male fanno andare il motorino del tuo mazzo. Quindi ci sono delle carte che in genere si comprono a fine della partita, sono esclusivamente punti vittoria a fine partita. Ci sono carte mercenari che sono i primi compagni che ti possono attaccare i mostri, ok. Ci sono carte esplorare che sono quelle che iniziano a darti più punti e a muoverti di più. C'è un mostro che è il goblin, che è duple fass, è il mostro standard che c'è sempre. Se non sai cosa fare, picchi il goblin. Ok. Tipico, picchiare il goblin, ok. Quindi ho queste carte. Diciamo che ho un movimento che decido di usare subito, quindi gioco questa carta e muovo il mio personaggio, lo muovo nella prima stanza. Benissimo. Se nella stanza non c'è niente non succede niente, assolutamente. Poi ho uno, due, tre, quattro, cinque, decido di comprare la carta furtività, la metto nella pila degli scarti e poi compro con due, con tre, posso comprare un compagno. Ogni volta che si compra una carta va subito rimessa, quindi non si aspetta che il giocatore abbia finito il momento dell'acquisto, ma si mettono sempre. Va subito rimessa. Questa è una carta particolare che spiego dopo, così vediamo che effetto fa. avrebbe effetto istantaneo, ok, la vediamo dopo. Ecco, acquisto questo qui che è un altro compagno e metto giù un'altra carta, ok. Allora, io ho finito il mio turno, però cosa è capitato? Ci sono delle particolari carte in Clank che sono le carte che presentano un attacco del drago. In genere sono carte o mostri o oggetti molto forti. Il gioco gira sul meccanismo del drago e dell'attacco del drago e sulla borsa del drago, ok. Siamo in due giocatori, quindi l'attacco del drago ha forza tre, ok. Cosa succede? Ci prendono tutti i cubi Clank che abbiamo messo e si mettono dentro alla borsa del drago, ok. In questa maniera qui, metti questo più i 24 cubi neri, che sono gli attacchi a vuoto, diciamo, del drago, e vanno tutti dentro. Poi si pescano cubi Clank in base al numero, al quantitativo, alla forza dell'attacco del drago. Qui ovviamente c'è anche un'eccezione, ci sono delle carte che si chiamano carte pericolo, cioè sono carte congegni con pericolo, anche altri tipi di carte. Cosa succede? Che devi pescare un cubo in più se c'è questa carta in gioco qua. Quindi vuol dire che io pesco tre cubi più uno a quattro. Pesco quattro cubi, adesso siamo all'inizio, è difficile che il drago attacchi qualcuno, ferisca. Però cosa succede? Che ferisce più me perché ho più cubi dentro alla cosa. Quindi pesco un cubo alla volta, uno, due, tre e quattro. Nessuno colpa è andato a segno, quindi quelli neri vengono scartati, quindi c'è più possibilità di scartare. Quindi più si va avanti, più è facile. Io ho finito il mio turno, le mie carte scartate, tocca a te. Quindi io ho una carta movimento, che è scattare, quindi prendo il mio meeple e lo metto qua. E io ho uno, due e tre, perché inciampare non ha... E quattro. Ah, e quattro, perché mi vale anche scattare. Inciampare invece non ha punti da spendere, quindi io posso prendere quattro. Ci sono carte particolari, come queste qua, che hanno un potere sotto che è acquisito. Vuol dire che quando acquisti la carta, nel momento che l'acquisti automaticamente guadagni l'effetto. Quindi se tu acquisti questa qui, non ce la fai perché hai quattro, automaticamente ti puoi muovere ancora. Ah, perfetto. Quindi io adesso ho quattro, quindi l'unica carta che posso prendere è questa. Esatto, esatto. Tu puoi prendere quella lì, oppure queste carte qua. Ah, oppure queste carte qua, che quindi sono... Quindi potrei prendere una di queste, che è esplorare. Esatto. E che quindi... No, quella è il flavor text. Ah, ci sono le frasi che caratterizzano la carta. No, la carta, il gioco, perché non è preso seriamente il gioco. E quindi ci sono dopisensi, ci sono frasi che fanno ridere, tutto basato un po' sull'idea di l'Hobbit. Quindi tu entri dentro, rubi al drago e scappi. E ci sono delle carte che richiamano anche l'Hobbit. Quindi io prendo questa che mi dà, da quello che ho capito, un movimento, però mi dà due punti di acquisto. E io mi rimane un punto che non posso spendere in nessun modo, quindi prendo le mie carte, le metto nella pila degli scarti e prendo altre cinque. E prendo altre cinque carte. Ovviamente all'inizio non si combatterà tanto, ovviamente. Faccio un esempio. Diciamo che io ho pescato... Ok. Ah, c'era una carta che dava più uno clank. Sì. Le carte più uno clank. A scopo del gioco ovviamente è fare meno rumore possibile anche, perché più rumore fai, più c'è la possibilità che viene colpito dal drago. Quindi, siccome c'è una carta che dà più un clank, prendi un cubetto clank e lo metti all'interno dell'area clank. Ah, ok. Quindi prendo uno di questo e lo metto qua. E va lì, esatto. Faccio un esempio. Diciamo che io ho conquistato il mercenario, il turno prima. Il mercenario è una delle prime carte che ti permette di combattere un mostro del dungeon. Come si fa a sconfiggere molto del dungeon? In base al numero di spade che vengono richieste per sconfiggere, in questo caso l'orco energumeno ha due spade, io devo superare o comunque eguagliare quello che ha lì. Quindi io con due spade, se ho giocato un mercenario, prendo questa, prendo l'effetto che la vittoria mi dà tre soldi, perché i soldi puoi acquistare le cose al mercato che vediamo dopo e comunque poi punti vittoria alla fine, scarto il mostro e giro un'altra carta. In questo caso scapiterebbe un altro attacco del drago, perché è il ruttatore, esatto, e fa rumore e attira il drago e subisce un altro attacco. Quindi, ad esempio, se un giocatore sconfigge questo mostro, fa quattro punti vittoria, ma fa rumore. Esatto, rutta. Esatto, giustamente. Giustamente, esatto. Sconfigge questo, fa quattro soldi, quattro oro si chiama, che ti permettono di acquistare oggetti oppure punti vittoria alla fine e sconfigge il mondo, lo scarta, gira un'altra carta, i mostri sono sempre così. Oppure puoi uccidere il goblin, che non si esaurisce mai, attacchi di due, guadagni un punto, non scarti mai la carta. Ah, il goblin rimane sempre lì. Esatto, non ci sono mostri da combattere, hai un mercenario, perché sprecare un mercenario fai... Intanto fai... Esatto, esattamente. Fai soldi. Esatto. E vado un attimo avanti. Più le carte che ti permettono di muovere, che ti fanno muovere, ti fanno muovere in tutti i cunicoli, seguendo le frecce dove sono presenti. Alcuni cunicoli sono particolari, come questo cunicolo richiede due, si chiama risorsa movimento, mi sembra si chiama, adesso non ricordo. Quindi vuol dire che uno ti serve per passare, uno perché è un particolare tunnel. Ok, qui ci vuole la risorsa a spada, nel senso che puoi passare senza subire danno se hai almeno una spada per ogni faccia di mostro. Vuol dire che sono i cunicoli presidiati da mostre. Questo altro sembro particolare non c'è nelle carte. Si possono passare questi tunnel solo acquistando la chiave che è il passepartout. La compri nelle tessere bottega del mercato. Nella tessere bottega del mercato pagando sette compri una di queste carte che sono corone e ti danno i punti. Gli zaini ti permettono di avere un artefatto in più, massimo ne puoi avere uno e poi devi uscire. Con lo zaini ne puoi portare due. E il passepartout ti apre tutte le porte. Quando entri in stanze con dei segreti minori peschi il primo segreto e in genere sono tutti effetti particolari che sono scritti nelle regole. Questo ti ha una pozione di forza che ti dà due spade, puoi usare quando vuoi, questa ti cura di uno, punto ferita e via dicendo. Invece ci sono i segreti maggiori che sono molto più forti. Questo qui per dire trovi un oggetto che ti dà sette punti alla fine. Sono molto più forti però sono in teoria più difficili da raggiungere perché quelli più buoni sono sempre in fondo. Esatto. Più va in fondo al dungeon più è difficile sopravvivere perché c'è più possibilità di trovare mostri e via dicendo. Mettiamo il caso che io non ho un'arma per sconfiggere questo mostro che si trova in questo cunicolo. Esatto. Quindi io prendo una ferita e la metto qua. E la metti nel tuo tracciato della vita. Quando arrivi al teschietto è chiaro. Quindi ovviamente aggiungendo i cubetti, la pesca dei cubetti per il drago e più ferite hai ovviamente è più facile. Quando peschi i cubetti del drago, del tuo colore, vanno automaticamente qua. Quando subisci ferite da gioco le prendi dalla tua riserva personale e le metti qua. E le metti subito sulla track della vita. Ci sono ovviamente carte o stanze che ti permettono di curarti. Quindi prendi il cubetto e te lo rimetti a posto. Oppure c'è una carta che sono particolarmente silenziosa che ti tolgono cubetti dal di qua. Quindi praticamente va meno un clank, togli un cubetto da qui e te lo rimetti via. Quindi eviti di subire sempre più danni. Comunque più vai giù, più gli artefatti sono forti, ma ovviamente è il rischio che tornare in cima diventa sempre più difficile. Perché vedo che qui il drago ha anche altri spazi dove si può muovere. Quando si muove? Allora il drago si muove in due maniere. Di cui una è quella che può capitare che essendo nella tana del drago, adesso trovo il segnalino. Dovrebbe essere nascosto qui da qua per parte. Eccolo qua. Rubile, vuoi non rubare un uovo di drago? Ti dà tre punti. Ok, ovviamente il drago si arrabbia. Arrabbiandosi il drago aumenta automaticamente il trastato della rabbia. Più va avanti, più rischi di subire delle ferite. Perché ovviamente si pescano più cubetti. Esatto. L'altro modo per aumentare la rabbia di drago credo che sia rubargli un artefatto. Adesso dovrebbe essere rubandogli un artefatto automaticamente la rabbia del drago sale verso livelli meno accettabili per tutti. Quello sicuramente. Ultima regola. Ovviamente recuperi un artefatto e devi scappare il primo possibile dal dungeon. Perché se tu muori in questa parte qui, non fai punti. Ok. Se tu muori in questa parte più alta della fortezza, non delle profondità, fai punti ma non prendi il segnalino maestria che è quello che sono 20 punti. Alla fine che prendi solo se esci. Sono 20 punti. Appena esci automaticamente tu non giochi più e diventi un segnaturni. Nel senso che al primo turno non succede niente. Più dai in teoria quattro turni di tempo ai giocatori per riuscire fuori. Quindi al primo turno aumenti di uno la potenza degli attacchi del drago. Al secondo di due, al terzo di tre, al quarto muoiono tutti. Ah ecco. Per accelerare sempre di più. Tu volendo potresti entrare, prendere il primo artefatto che trovi, scappare e dare quattro turni a tutti per andare. Però è molto difficile perché rischi che gli altri trovino delle carte, come per dire i diamanti. Adesso non ho avuto, sono delle particolari gemme che ti danno molti punti alla fine del gioco e quindi magari tu hai un artefatto ma l'altro ha trovato una carta normale che ha più punti. Quindi è molto rischioso. Perché è vero che lo scopo è prendere un artefatto e uscire dal dungeon, però ovviamente più si esplora, più si va in profondità nel dungeon e più troviamo... Perché un conto è trovare un artefatto da 10 ma quando arriva un artefatto da 30 insomma è un po' più ghiotto, però ovviamente con il rischio di subire più attacchi, più pericolo insomma. È comunque un gioco veloce, non è durata. Esatto, massimo massimo 45 minuti un'ora, non di più secondo me, quello sicuramente. Poi dopo, adesso dovremo far uscire l'espansione tra qualche mese, che è la prima, che è Sunken Treasures, la tradurremo in qualche maniera. Quella è un'altra planza e aggiunge nuove carte perché le profondità sono sommerse. Parlando di espansioni io so che ne uscirà anche un'altra play. Che dovrebbe uscire qualche space, che non è un'espansione ma è proprio un altro base ambientato nello spazio essenzialmente. Dove sia la plancia che le creature presenti all'interno del clank base sono trasformate in creature spaziali. Qui c'è giusto la carta più particolare, che adesso non mi ricordo dov'è, che si chiama il signor Baffetti, che è un gatto. Tu puoi trovare un gatto in giro e dice non sai se il capo è il gatto del dungeon oppure il drago è il capo. Che nel futuro si chiama il dottor Baffetti, quindi ha tutti i vari congegni, vi dicendo. Comunque è tutto molto scherzoso, è preso poco seriamente, non è un gioco serio e quindi è bello anche per quello, assolutamente. Sì perché in effetti è bello scoprire anche tutte le varie carte perché ci sono delle illustrazioni estremamente simpatiche. Sì sono molto simpatiche, anche il flavor test è molto simpatico e c'è anche l'amuleto del vigore che guarda caso richiama. Adesso vorrei trovartelo ma ci sono talmente tante carte. No banalmente la frase del ruttatore, questa immonda creatura deve il nome al suo inusuale grido di battaglia. Dovina quale sia. Allora tradurre questo gioco è stato molto divertente perché siamo riusciti a trovare come in questa carta dei sinonimi, un'ottima traduzione dall'inglese all'italiano. Questa carta in inglese si chiama The Adend, no The Adran scusami The Adran, che in italiano l'abbiamo tradotta in una rotta di collo con la frase lo sai perché si dice così. È una carta molto rumorosa, non ti fermi nelle grotte perché quando vai nelle grotte perdi un turno, essenzialmente devi fermare. Però ovviamente insomma devi scappare, devi andare veloce. Esattamente, però c'è tanto, è molto divertente, ridi molto perché più fai rumore, più metti segnalini, più gli altri si arrabbiano perché ti fai attaccare il drago. Bene, allora dove vi troviamo? A Lucca Comics? A Lucca Comics, siamo al padiglione Carducci, al Games, allo stand Car 440, dove è appena uscito Clank, si trova da ieri sul bancone e sta andando già alla grandissima. Allora vi verremo sicuramente a trovare. Ottimo. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.